PF 14, Nobel Bar, e in terza 15, Yolimede, Nord. Cambio di guido del tedesimo numero 10, guidata da Federico Marangio, anziché Massimo Ancoras, corre con i ferri invece il numero 4, Minatab, ha fatto la variazione. Problemi per l'arice, numero 5, di Galoppo. Parte piano, Nives del Sile. Sacco della macchina con Ombra Gitana, che lungo i birilli rientra ad Ortega e Minatab, veloce dalla seconda fila, Nomen PF. E in terza corsia, al lato di Jere Canaf, i primi 200 metri in 14,2. I cavalli affrontano la prima curva con Ombra Gitana al comando, nei confronti di Jere Canaf e Nobel Bar, tiro Ortega 29,6. I 400 iniziali con Nobel Bar, che punta direttamente su Ombra Gitana e lo sopravanza all'altezza dei primi 6, in 44,1 di tutte le camminate. Però Nobel Bar deve fare i miracoli, Maurizio Sibilla, per mantenere l'andatura. non riesce ancora nella conversione, pur tirandolo su, viene in fuori. Allora Nobel Bar, sì, Nobel Bar dopo 800, sbagliano Menna PF, un minuto abbondante i primi 800 metri e così il nuovo leader si chiama Nobel Bar nei confronti di Ombra Gitana. Per linee esterne si fa notare Nives del Sile, poi la mossa in terza corsia di Marbella. Il chilometro è 1,16,3 con Nives del Sile e Marbella che si profilano con convinzione al lato del battistrada, 4,50 la conclusione. Poi richiesta Ombra Gitana, allargo anche Ortega, quando si va sulla curva finale viene via Nobilis Pf a centro pista, 15 l'ultimo paletto di Nobel Bar che è in vantaggio ma attaccato da Nives del Sile e Marbella. Poi Nobilis Pf a largo di tutti, quando i cavalli entrano in retta d'arrivo, Nobel Bar in vantaggio su Nives del Sile, poi Marbella, Nobel Bar e Nives che se ne dando. Viene via anche Ortega, il gruppo è compattissimo, Ortega e Marbella su Nives, Nives al comando, il palo si avvicina, 3 cavalli sulla stessa linea con Ortega che a centro pista appariglia Marbella e Nives del Sile. 2-2 abbondante, 37 gli ultimi 400 metri, arrivo davvero molto difficile da capire, almeno in diretta, andiamo a riapprezzare, fase rallentata, Nives è passata, Marbella l'attacca, Ortega a centro pista, foto strettissima per le piazze, e qui forse ancora Nives, ma bisogna ancora arrivare sul traguardo, perché c'è Marbella che l'attacca, Ortega a centro pista, è davvero stretta.